Ciao ragazzi, se avete dei problemi con la vostra finestra che non apre bene e non chiude bene perché magari gratta sotto o gratta sopra, la vostra finestra ha necessità di una regolazione. Adesso vi spiegherò come si fa a regolare una finestra. Le regolazioni. Quando voi avete installato la finestra oppure con il passare del tempo avete difficoltà? Quando aprite e gratta sotto, vedete che proprio tocca sotto e gratta, cosa dovete fare? Prendete una chiave da brugola del 4. Ok? Chiave da brugola del 4. Andate su questa cerniera. Come vedete qui all'interno c'è una brugoletta, ok? Questa brugoletta io la inserisco, giro in senso orario, senso orario. In senso orario cosa succederà? Che la punta va su e non gratta più sotto, alzando non gratta più sotto. Dunque, io in senso orario alzo la punta. Al contrario, se mi gratta sopra, cioè vuol dire che l'anta è troppo alta, allora io girerò, inserirò la chiavetta e girerò in senso anti-orario. Dunque la punta si abbasserà. Ok? Quando trovate l'equilibrio giusto, aprite e chiudete tranquillamente. Spero che il video vi sia tornato utile, che vi faccia risparmiare tanti soldi. Sappiate che vendiamo finestre anche noi della Stock Serramenti. Entrate su Google e digitate Stock Serramenti e entrerete nel nostro sito dove ci sono tantissime occasioni dove noi vendiamo finestre e anche le spediamo in tutta Italia. Al prossimo video, ciao! Ciao!